è fresco al nero eh si ma è per quello che non ce ne sono proprio tantissimi che vanno in fibrillazione per il clinico usano tutti i cori all'oglio di solito perché restano più perché si mettono anche 3-4 giorni a sciogliere ma vabbè sono gusti e che differenza per me è che bisogna volare proprio con questi affari con gli impulsi quasi e quello che sta là a fare con la retta ci mette a me ti va a prendere il pennello sul muro e sei ancora là inchiavato e beh se vuoi che non stia va a far peggiorare la difficoltà che cosa vengo si A stosveni, au, a stosveni Giacca male le ginocchia nella maniera Ma è vero, il menisco come sta? Da Dio, io sono da Dio ormai Caputana, porca putana Poi luce qua Poi luce Ma è un bel effetto Si Piacevole Sul nero dietro Non so, è proprio il precizico Sono fuori con la testa ma E stiamo dentro un casino Zelic, sembra la scritta lì Mi potresti scrivere dentro Zelic Non faccio la Zelic No, no, lì dentro Questa devo ingrandirla un po' E' un po' andata la manina qua Tu dici? Si Un po' si E' un po' Non vedo Salbà Un po' che ti esco io Ufff, poi Grazie.